Un vero e proprio banchetto alla faccia dei peggiori mafiosi. Questa l'iniziativa della carovana antimafia che ha permesso anche a Rimini di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica su un problema che in vista dell'estate si fa sempre più attuale. Nel contesto dell'antica pescheria del centro città si sono potuti assaggiare diversi prodotti nati sulle terre confiscate e malavitosi. Presente anche la CGL. Nei momenti di crisi, nei momenti anche di difficoltà delle imprese col sistema del credito l'illegalità e anche l'organizzazione criminale hanno gioco facile quindi il rischio di una penetrazione ulteriore dell'organizzazione criminale anche nel nostro territorio è un rischio reale. Credo che i segnali che abbiamo ricevuto siano segnali che ci devono far preoccupare. Noi vogliamo che questo territorio non diventi un territorio dove si ricicla, dove l'imprenditoria viene fatta in maniera illegale e che il territorio diventi una sorta di lavatrice del denaro illegale e di provenienza illecita. Pensiamo a un'imprenditoria sana, a un lavoro regolare sano che dia ai lavoratori un reddito certo in una situazione di sostenibilità sociale e di legalità. Noi pensiamo che l'evasione fiscale e il lavoro regolare possono essere una chiave d'eccesso anche per le organizzioni criminali.